A Montà resiste con orgoglio la giornata del ringraziamento giunta alla sua quattordicesima edizione. Organizzata dalla parrocchia di San Bartolomeo è l'unica ricorrenza religiosa e civile in città dedicata al lavoro dell'uomo nei campi, ai prodotti della natura, agli animali da fattoria, ai mezzi. A Montà sono rimasti circa 200 campi coltivabili soprattutto a cereali e quasi tutti lavorati da terzisti. C'è anche una realtà di agricoltura bio e solidale fuori di campo e una solida memoria storica di quella che fu la non facile vita in campagna. Il rione confina con ben tre comuni della cintura, Villa Franca, Limena e Rubano. Pure da lì sono arrivati in molti con il consueto corteo di trattori. L'offerta dei prodotti durante la messa, le parole e la benedizione del parroco Don Massimo De Franceschi ai mezzi nuovi, recenti ed epoca ancora funzionanti, insieme alle molte autorità civili, hanno offerto una riflessione su quanto l'uomo non smetta mai di imparare dalla natura, anche in città. Anche a Padova città ci sono, se non mi ricordo male, più di 250 aziende agricole. È giusto essere qui insieme a loro, anche se il tempo è un po' inclemente, ma come ricordo noi siamo abituati a questi novembri e anche l'acqua per noi in agricoltura è importante perché ricarica le falde e fa pulizia nei campi. A Padova è una città sempre più attenta all'agricoltura, ha molte zone ancora dedicate all'agricoltura, il comune con l'assessorato all'agricoltura che abbiamo ristabilito, stiamo veramente ricominciando a seminare. A coronare la giornata la vendita di prodotti tipici di aziende delle zone vicine e il pranzo domenicale tra gli agricoltori e i loro familiari. Gli organizzatori, guidati da Fabio Rizzetto, a causa del maltempo hanno dovuto ridurre in parte il programma della festa, si rifaranno di sicuro a San Martino del 2020 con la quindicesima edizione.